Finisce nell'occhio del ciclone la Montefeltro Salute, società mista pubblico-privata che si occupa delle prestazioni ospedaliere nell'area di confine con la Romagna, in particolare nell'ospedale di Sasso Corvaro. A rintuzzare la polemica è il nuovo centrodestra Marche che allunga sospetti sui privati, la società SAM che detiene il 40% della Montefeltro Salute. Nella sostanza un attacco alla parte politica a partire dall'assessore alla salute della regione, Almerino Mezzolani. Un giochetto di scatole cinesi, io faccio il professionista, penso che se ognuno di noi o di voi trovassero un conto corrente bancario a San Marino, entreremmo tra le persone che fanno parte di Blacklist. Mi sembra un po' assurdo che un Asur Marche che gestisce i soldi che gestisce con l'importanza che ha non si renda conto che è socia di una società privata che ha sede legale a San Marino. Mi sembra un po' strano tutto questo, ma noi non ci limiteremo a farne oggetto di interrogazioni regionali, interpellanze o altro, ma proporremmo queste problematiche anche in altre sedi. La risposta è a stretto giro di posta. Questa è una favola che ormai gira da 3-4 anni. Praticamente già dal 2010 che la società, proprio per evitare certe illazioni, ha aperto una società in Italia, per cui il socio privato è di diritto italiano e paga le tasse in Italia. In più i soci sanmarinesi sono completamente trasparenti perché le società anonime a San Marino non esistono più da almeno 4 anni. Con 3 milioni di euro di fatturato che ci girano noi, noi facciamo 3 mila interventi. Va bene così, mi fa piacere per il centro-destra. Però l'invito è veramente aperto. Se hanno veramente delle questioni da affrontare con noi, che ci vengano a trovare, noi vi abbiamo i libri aperti a tutti perché siamo società pubblica.